Novo Montestituto Soprofilattico collaborano per realizzare una prova sperimentale l'impiego della farina di cardo nell'alimentazione animale. L'impiego della farina di cardo è importante perché costituisce una fonte proteica rilevante per l'alimentazione degli animali e la farina di cardo verrà utilizzata in parzale sostituzione a altre farine che possono essere farine di girasole o di soia. Andremo anche a indagare l'eventuale apporto trofico che questo tipo di farina può portare alla salute degli animali e di conseguenza anche alla qualità della carne. Per noi è molto importante approfondire questo concetto soprattutto in una regione come la Toscana dove abbiamo recentemente verificato che la produzione di carne bovina è in trend di aumento e quindi rappresenta una base importante per la produzione zootecnica locale. Una produzione zootecnica di qualità come sta a testimoniare anche la recente richiesta di inserire la bistecca alla Fiorentina come patrimonio dell'UNESCO. Pensiamo che attraverso questo progetto si possa anche dare un valore aggiunto a questa farina perché è un prodotto che sicuramente non ho GM e inoltre è un prodotto a chilometro zero, temi che sono particolarmente ricercati dai consumatori.